Buona giornata a tutti. Iniziamo questo secondo giorno di maggio con una preghiera rivolta a Maria, una preghiera della tradizione che ti è stata consigliata dal Papa. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o vergine gloriosa e benedetta. Affidiamo realmente ciascuno di noi e soprattutto quelli di noi che più stanno vivendo questo momento della prova. Il Vangelo di oggi continua il racconto del capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù dopo aver ascoltato dissero. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo disse loro. Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva che dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non li è concesso dal padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici. Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Dunque la predica che Gesù ha tenuto a Cafarnao nella sinagoga dopo aver compiuto la moltiplicazione dei pani non viene accolta. Gli dicono che è un discorso troppo duro. Gesù fa un ultimo tentativo per colpire il cuore dei suoi uditori e annuncia innanzitutto che faranno esperienza di un fatto grande che aiuterà la loro fede. Non credete adesso ma e se vedeste? Dice il figlio dell'uomo salire là dove era prima. Evidentemente qui allude alla vicenda della sua morte, della sua risurrezione, ma non alla vita di prima ma alla vita di colui che ascende al Padre, che partecipa della gloria del Padre, che sale là dove era prima con la sua umanità, però lui il verbo che da sempre è presso Dio salirà con la sua umanità presso Dio. Per noi questo evento è già predicato, è già avvenuto, quindi in un certo senso siamo più avvantaggiati per comprendere le parole di Gesù rispetto ai giudei che invece non avevano ancora avuto questa esperienza, questa testimonianza sulla risurrezione di Gesù. Dunque sarà l'evento decisivo della morte e risurrezione ad aprire il cuore per la comprensione della sua parola. Il secondo passo però che Gesù invita a fare ai suoi uditori per capire, aprirsi alla verità del Vangelo e quindi accogliere la sua persona è quello di riconoscere che è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla e le parole che lui ha detto, le parole che ha pronunciato nella sinagoga di Cafarnao sono spirito e sono vita, cioè diventeranno comprensibili e diventeranno alimento reale per la vita solo grazie al dono dello spirito santo. Qui ricordiamo in fondo quello che già Gesù aveva detto a Nicodemo, bisogna rinascere dallo spirito per comprendere la persona di Gesù. Le parole del Vangelo, le parole che ascoltiamo devono essere ascoltate nello spirito, cioè con l'aiuto dello spirito santo e solo così cessano di essere solo parole, anche parole buone, ma diventano vita. Per questo che cosa vuol dire se vogliamo come tradurre in alcuni atteggiamenti? Innanzitutto dobbiamo veramente convincerci, perché non c'è abituale, e dobbiamo spesso invocare il dono dello spirito santo. Gesù ha detto se voi date delle cose buone ai vostri figli, se ve lo chiedono, se voi chiedete allo spirito santo forse non ve lo darà. Lo spirito santo è un dono che otteniamo certamente se lo invochiamo e va invocato. Il secondo atteggiamento per che lo spirito agisca è disporre il nostro animo alla sua azione, come un marinaio che abbia la sua barca a vela, perché la barca vada avanti è necessario che soffi il vento, ma lui da parte sua, il marinaio, deve disporre la vela e allora la barca si muove. Se la vela rimane chiusa può soffiare il vento, ma non c'è nessun effetto e così noi dobbiamo disporre la nostra anima ad accogliere ciò che lo spirito vuol dirci, lì dove soffia, ascoltarne la voce. Per far questo è necessario riconoscere, preservare le ispirazioni, le intuizioni che lo spirito suscita nel nostro cuore. Lo dobbiamo fare riservando un tempo e uno spazio di silenzio. È necessario come avere una stanza interiore dove rientrare e stare in silenzio per ascoltare il soffio dello spirito. Il silenzio non è la condizione della preghiera, soltanto una specie di cornice. Il silenzio stesso è preghiera. Ricordo quello che scrive un esegetta in un suo libro, ti commento ai salmi, l'esegetta scrive un giorno incontrai a Betlemme un eremita originario di Montserrat in Catalogna. Si chiamava padre Stanislao e viveva laggiù dal mito degli anni settanta. Quindi non parliamo dei primi monaci, ma dei monaci che ancora adesso continuano a vivere nel deserto di Giuda. Durante un colloquio nella sua cella mi disse, va al più profondo del tuo cuore e là proprio in fondo non c'è che Dio. E poi aggiunse il silenzio, ecco la preghiera perfetta. Commenta Benahir dell'esegetta, le parole di questo uomo di Dio scaturivano dal profondo del suo animo e risuonavano in esse tutto il peso della sua esperienza di solitudine. Al tempo stesso aveva un'impressione ben precisa, dice quello che sa e lo sa innanzitutto perché lo ha verificato nell'esperienza. Nelle sue parole di una semplicità spoglia e disarmante risuona in evidenza senza pari. La preghiera perfetta è il silenzio e sappiamo che è un invito che dobbiamo ripetere perché non ci è spontaneo ricavare nella nostra giornata un tempo di silenzio che si apre all'ascolto dello spirito che soffia nel nostro cuore. In questi giorni abbiamo fatto un invito particolare ai ragazzi e ai giovani e cioè creare in casa un segno, uno spazio che ricordi la necessità di fermarsi per un momento comune di silenzio e di parola condivisa. Un segno in casa che ci ricordi la necessità di ritirarci un momento per il dialogo con il Signore. Allora se c'è questo spazio al silenzio lo Spirito Santo trova il vargo per soffiare su di noi e aprirci all'incontro reale con Dio per cui le parole non sono dure quello del Signore ma diventano comprensibili. Il risultato di questo spazio dato al Signore è l'esperienza di una vita più piena, è l'esperienza di una vita eterna, si vive meglio anche in tempo di difficoltà. Chiediamo allora al Signore che ci aiuti a non andare via come è capitato alla fine da parte degli uditori che hanno trovato troppo duro il discorso di Gesù ma grazie all'azione dello Spirito Santo. Possiamo anche noi rispondere a Gesù che ci domanda perché fa appello sempre alla nostra libertà. Voi volete rimanere? Rispondere anche noi con le parole di San Pietro. Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.